A Favara, Canicattia e Portempedocle, Ballottaggi, Alba Bruccoleri, Diventura, Panci e Carmina Guarraci. A Montevago, eletta sindaco, Larrocca, Ruvolo, Irene Milisenda. L'affluenza alle urne in Italia a chiusura dei seggi in occasione delle elezioni amministrative è stata del 62,14%. Alle precedenti amministrative di riferimento la percentuale dei votanti è stata del 67,42% e nei comuni siciliani interessati dal voto l'affluenza è stata del 65,32%. Nell'agrigentino si è votato a Montevago, Portempedocle, Favara e Canicattia. A Canicattia il 64%, a Favara il 61%, a Portempedocle il 65% e a Montevago il 68%. A Montevago la deputata regionale dell'Udc, Margherita Larrocca Ruvolo, è stata eletta sindaco con il 52,13%, 967 voti. Il rivale Calogioro Impastato è al 47,87% con 888 voti. A Portempedocle, prima alle urne Ida Carmina del Movimento 5 Stelle e domenica 19 giugno sfiderà al ballottaggio il secondo più votato, Orazio Guarragi, sostenuto da Partito Democratico, Sicilia Futura ed alcune liste civiche. La gente forse ha voglia di cambiare? Sicuramente si è votato noi e aveva voglia di cambiare. Noi appunto ci siamo proposti come una rivoluzione culturale che riportasse la politica al senso profondo e pieno del termine come servizio disinteressato al bene comune e soprattutto in favore degli ultimi. Cosa che forse era mancata in questi tempi in cui si è passati da una democrazia a una partitocrazia autorreferenziale in cui si riproponevano sempre le stesse persone e che non avevano più un contatto reale con i bisogni e le difficoltà della gente. Forse questo ci ha premiato perché noi siamo tutti cittadini empedocline, abbiamo sempre vissuto a Portempedocle, siamo stati sempre in mezzo alla gente che ci ha visto compagni di avventura e di sventura e quindi ci ha voluto dare fiducia. Vogliamo lanciare il nostro paese verso la modernità, una modernità che non dimentichi la solidarietà. Quindi abbiamo un programma molto corposo che investe tutti gli aspetti della vita in un paese dal rilancio dell'attività amministrativa che sia più moderno, la diminuzione della burocrazia, una democrazia più partecipata. Quindi aprire il comune ai cittadini come una casa trasparente in cui tutti possano partecipare. E poi naturalmente abbiamo delle ricette per lo sviluppo economico che puntano soprattutto sul turismo, sul porto che deve essere valutato non solo per le attività mercantili, di pesca e di approdo croceristico, ma come gioiello in sé, come un punto nevralgico della nostra vita cittadina. E poi naturalmente anche valutare o quantomeno potenziare la possibilità dell'installazione di piccole e medie imprese nel nostro territorio e tutto quello che può offrire le nuove tecnologie e comunque imprese a basso impatto ambientale e compatibili dal punto di vista ecologico. E ballottaggio sarà anche a Canicattite, il primo il candidato della sinistra Ettore Di Ventura e l'ex assessore consigliere provinciale Ivan Paci, sostenuto da alcune liste civiche. Ed ancora il 19 giugno a Favara sarà scontro diretto tra l'avvocato Anna Alba del Movimento 5 Stelle, più votata al primo turno, e la dirigente scolastico Gabriella Bruccoleri, sostenuta da liste di centrosinistra con PD e NCD.